Ciao, sono Veronica da Milano e studio Business English in English Unlimited. Ho deciso di venire a Brisbane perché mia sorella ha studiato qua due anni fa e mi ha raccomandato questa città e penso che sia stupenda e sono molto contenta di questa scelta. Ho deciso di studiare Business English perché mi aiuta in una carriera futura a migliorare l'inglese in un ambito professionale. Studiare qua mi ha dato inoltre la possibilità di lavorare per la scuola. Adesso sto creando tutto il materiale marketing per loro. Penso sia veramente una buona esperienza, una bella esperienza da fare. Vi auguro di divertirvi e vivere il più possibile la vostra avventura qua in Australia. Ciao, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!